Partiamo da una considerazione generale, ma vale la pena fare il decentramento fiscale. C'è un recente paper molto rigoroso di Martin Vazquez, Agnese Sacchi e Lago Pegnas che alla fine giunge alla conclusione che conviene, laddove si è fatto in tutto il mondo, i risultati sono positivi. Bene, da noi che è successo? Da noi si è fatta la legge 42 e si è iniziato il percorso. Quando iniziò l'iter della 42 c'erano le due filosofie di fondo, facciamo un federalismo sulla base della riserva fiscale o lo facciamo sulla base dei costi standard? Si scelse di farlo sulla base dei costi standard, nel lungo periodo arrivi lo stesso risultato, più complicato, però più digeribile dal Paese. Poi però che succede? Succede che si interrompe tutto, il 2011 salta tutto, fine 2011. A questo punto facciamo un'analisi su cosa è successo dopo, dal 2011 in poi, in termini di risorse in capo al sistema degli enti locali, in termini di norme che hanno poi rivisto un'impostazione del federalismo fiscale. Ma la parola fine al decentramento del federalismo fiscale arriva con la tesoreria unica, scelta che ha messo veramente in difficoltà tutto il sistema degli enti locali perché a questo punto, articolo quinto, che in mano i soldi ha vinto, finito, partita chiusa. Quindi la scelta fu politica di tornare indietro, il pendolo è tornato tutto dall'altra parte. Inoltre ci sono stati interventi legati dall'emergenza, ci insegnavano che non si legifera quando c'è emergenza, però così è stato fatto. In particolare la 243 prevede un punto che all'epoca, Giorgetti si ricorda, si tentò di affievolire, che riguarda il contributo aggiuntivo al pareggio di bilancio. Ok, il comparto va in pareggio di bilancio, però a tutti i costi si vuole inserire che comunque lo Stato può chiedere un contributo aggiuntivo per la finanza pubblica. In questo caso le regioni oggi sono un esempio emblematico. Sono l'unico pezzo di Stato a pareggio di bilancio, quindi che non incide sui parametri europei e che è stato chiesto un contributo aggiuntivo di 7 miliardi e 8, tenendo conto del complesso delle manovre precedenti. Quindi 7 miliardi e 8 aggiuntivi rispetto al pareggio di bilancio che da solo vale 2 miliardi e 8. Diciamo, un bello sforzo. Per non parlare dei problemi molto seri di applicazione della 243 che le regioni stanno, tra virgolette, sperimentando. Diceva giustamente prima il professor Zanardi, qui abbiamo due problemi molto, molto complicati che da un lato sono la norma sugli investimenti, abbiamo proposto delle modifiche, speriamo che vengano accolte, ma per dare l'ordine di grandezza, sono in regione Lombardia, abbiamo fermi 704 milioni di investimenti di PIL, che potremmo fare domani, senza incidere minimamente sui conti di finanza pubblica né in termini di saldo netto di finanziare, di indebitamento netto, quindi neutro, assolutamente neutro, fermi sostanzialmente per un capriccio. E' un peccato, direi è un peccato rinunciare nella globalità a oltre i 2 miliardi di euro di investimenti di PIL, che ci pare sono abbastanza utili in questo momento al Paese, senza incidere sui saldi di finanza pubblica. Ma veniamo poi all'altro lato. Le risorse è andata così. Le norme, sulle norme anche qui il pendolo è tornato tutto indietro. Riforma costituzionale addirittura prevede la clausola di supremazia. Bene. Molto forte, senza alcun contrappeso, per cui abbastanza pesante, complicato e pasticciato. Però sono scelte politiche e queste le fa il Parlamento. Analizziamo poi l'effetto complessivo. C'è stata una logica in questa revisione del comparto, perché il federalismo prevede da un lato le risorse e dall'altro le funzioni. E con le risorse fai quello che devi fare. Il problema è che qui il pasticcio è veramente inenarrabile. Il caso delle province, ma poi ne parleranno i rappresentanti delle province, è emblematico. Ci vorranno 4-5 anni per sistemare questo pasticcio. Sempre ammesso che si riesca. Pasticcio, faccio qualche esempio giusto per capirci, che non porta neanche a dei risparmi. In Friuli, dove si è arrivato sostanzialmente alla conclusione dell'esito a cui si vuole arrivare, passare da 4 province a 17 mini-provincie, hanno scoperto che si spende di più. Allora, se l'obiettivo era spendere di più, bastava dirlo. In più, creando degli scompensi notevoli sul personale, centri per l'impiego, pulizia provinciale, eccetera. Però, questo è tutto, tuttora in discussione. Dà l'idea di una grande confusione. Quindi, da un lato il pendolo è tornato indietro, ma dall'altro non si capisce bene o male perché. Allora, perché è stato fatto? Ma sostanzialmente perché era il modo più semplice per coprire le manovre di finanza pubblica. Tutto qui. Banalmente, è molto più semplice dare la responsabilità di mettere le tasse a qualcun altro, che è quello che è stato fatto. Qualche dato per capirci. Mentre il comparto delle regioni ha, dal dati COPAF, quindi della conferenza, dal 2009 al 2012 ha ridotto del 38,5% la propria spesa primaria, lo Stato l'ha ridotta del 13, qui dal 2009 al 2012. Ma a questo si aggiunge l'ultimo pezzo, l'ultimo miglio è stato devastante. Abbiamo detto 7,8 miliardi di taglio sul comparto regioni nell'ultima finanziaria, il 4,88, quindi quasi 5% della spesa primaria, contro l'1,19 dei ministeri centrali. Noi ci ricordiamo, l'obiettivo era 3% tutti. Ma è logico che è più facile spostare su qualcun altro il sacrificio. È quello che è stato fatto. Il dato sui comuni è oggettivamente più facile da comprendere. I trasferimenti ai comuni sono passati dal 2011 a un taglio di 1,5 miliardi, al 2015 a un taglio di 8,3 miliardi. Quindi da 1,5 miliardi a 2011 a 8,3 miliardi di taglio. Parallelamente, cosa è successo alla fiscalità, in particolare alla fiscalità sugli immobili? Lo diceva prima anche Zanardi, che è il tema che ha messo in discussione tutto, l'idea di federalismo. Si è passati da 9,8 miliardi nel 2011 a 25 del 2014, vedremo quanti sono nel 2015, sicuramente di più, non di meno. Ma fossero almeno rimasti in capo ai comuni queste risorse, questi miliardi, si faceva qualcosa. Invece no, si è tagliato e in più si è preso parte di gettito. Quindi il tutto è abbastanza complicato, sia dal punto di vista delle norme, sia dal punto di vista delle risorse. E allora che fare? Rinunciare a tutto? No, noi siamo comunque convinti che funziona. E possiamo dare un esempio, proprio come Regione, di come in realtà attribuire la responsabilità di spesa e di finanziamento della spesa funziona dal punto di vista del contenimento dei costi. E l'esempio l'abbiamo sul comparto più problematico, che è quello della sanità. Se uno va a vedere la spesa sanitaria, nota che nonostante l'invecchiamento della popolazione e nonostante il costo aggiuntivo di macchinari, terapie, nonostante ci sia mezzo paese in piano di rientro, quindi si è partiti da situazioni molto complicate, pensiamo alla Regione Lazio, vedrete che si è sostanzialmente stabilizzato. Non esiste altro comparto della spesa pubblica che si è stabilizzato. Quindi vuol dire che funziona. Perché funziona? Perché soprattutto nelle Regioni in disavanzo, per rientrare, aumentavano le addizionali. E questo ha contenuto l'incremento della spesa, fino a stabilizzarlo, fino a ridurla. Uno dirà, vabbè, ma dal punto di vista della qualità, abbiamo lo stesso risultato? Allora, facciamo un esempio parallelo su una funzione gestita dallo Stato, la scuola. La scuola è gestita centralmente. Non ha visto una stabilizzazione della spesa, anzi è continuata ad aumentare e continua ad aumentare. Tutt'ora ci sono stabilizzazioni, assunzioni, eccetera. Ma se uno va a vedere la distribuzione della qualità, è sostanzialmente la stessa distribuzione della qualità di erogazione dei servizi che c'è in sanità. ci sono regioni dove nelle classifiche Ox e Pisa ci si confronta con i migliori paesi europei, ci sono regioni dove, pur spendendo molto di più pro capite, ci si confronta con i paesi in via di sviluppo. Quindi non c'è una relazione tra centralizzazione e qualità della spesa e non c'è una relazione tra centralizzazione e risorse. E allora concludo. Come se ne esce? Ma secondo noi il pendolo non può che tornare dall'altra parte. E abbiamo anche degli esempi. Al di là della sanità, proprio come regione abbiamo presentato un documento, secondo noi è molto interessante, ha a Cottarelli l'ennesimo responsabile del taglio della spesa e in questo documento davamo anche dei suggerimenti su come tagliare la spesa. Ovviamente l'ho perso, ma mi ricordo i numeri. La spesa più grossa, oggettivamente, resta quella del personale, perché poi il personale trascina con sé tutta una serie di spese di funzionamento. Abbiamo come regioni sottoscritto un documento unitario, dicendo prendiamo le regioni, le dividiamo per fasce e ci diamo come obiettivo ciascuna regione di arrivare al benchmark migliore per la fascia dimensionale. Va bene, la Lombardia ha 19 euro pro capite contro una media nazionale di 44,5. Ok, ma la Lombardia è grossa e quant'altro. Però le singole fasce davano la possibilità a ciascuna regione di avere un percorso di rientro. E' stato buttato via, non è stato preso in considerazione, perché si è preferito, ma questa è una scelta politica, si sono preferiti i tagli lineari, perché il taglio lineare è politicamente più facile da farsi. E l'esempio su tutti riguarda proprio la sanità. Nel distribuire l'Italia e la sanità c'era nella norma precedente la possibilità di parametrarli sulla base degli indici di virtuosità, perché comunque noi dobbiamo cercare di dare una prospettiva di miglioramento di contenimento della spesa pur nel decentramento. Questi obiettivi sono stati tolti. Si premiava chi aveva la centrale acquisti e chi pagava nei tempi previsti dalla direttiva europea, sono stati tolti per inserire il parametro Pille Popolazione. Ma perché la scelta politica prevale, è più facile fare un taglio lineare, così non si lamenta sostanzialmente nessuno. Ecco, questo è quello che è successo. Secondo noi, proprio alla luce della difficoltà di contenimento della spesa pubblica, noi abbiamo degli obiettivi molto sfidanti. Prima entrando facevamo un conto facile. Prendi gli 825 miliardi totale, togli i 3,70 di pensione e tutto quanto, che può solo aumentare e non può diminuire. Togli la sanità, 110 che può solo aumentare e non può diminuire. Togli il personale, 167. Togli gli interessi che possono solo, ci auguriamo stabilizzarsi. Togli la spesa per investimenti, restano 47 miliardi. È possibile su 47 miliardi ottenere gli obiettivi ambiziosi e di tagli ulteriori della spenda e rivio e le risorse per il personale, il contratto di personale e le risorse per la sentenza delle pensioni e magari qualcosa per lo sviluppo del Paese. È chiaro che non ne esci più. Viceversa, abbiamo un'unica voce che può essere efficientata che è proprio quella personale, che trascina con sé tutta una serie di voci che sono le spese di funzionamento. Per cui, ritornare sull'applicazione seria dei fabbisogni standard a tutti i comparti è probabilmente, anzi, a mio avviso è sicuramente l'unica soluzione per risolvere un'equazione risolvibile.